Salvataggio in mare a Fossa Cesia dove un ragazzo di 14 anni recupera un capriolo finito in acqua perché probabilmente rimasto investito lungo la strada statale 16. Il fatto è accaduto domenica scorsa presso il trabocco Punta Torre e il piccolo eroe si chiama Samuel Massa. Ho cercato prima di dirigermi dritto di lui ma era spaventato e non si riusciva a farsi avvicinare. Ho provato poi a fare il giro lungo raggiungendolo da dietro l'ho ferrato per le zampe e l'ho accompagnato verso la terraferma ha dichiarato Samuel che non è esitato a gettarsi nel mare gelido. Uscito dall'acqua il ragazzo grazie all'aiuto di due ciclisti riesce a risalire la scarpata e trarre definitivamente in salvo l'animale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della forestale e i veterinari dell'ASL che hanno provveduto per curare l'animale ferito e impiantare un microchip e rimetterlo sul territorio il giorno seguente. Per me è stato normale averlo salvato ha dichiarato Samuel. Spero che questo si è un esempio per tutti ha poi aggiunto il padre Pasquarino così da riuscire a intervenire quando c'è un animale in difficoltà.